Come hai avuto la squadra? Lo faremo contro una squadra forte come il Cataneo, però noi giochiamo in casa e vogliamo far bene. Quando partite del genere, soprattutto in derby, ci vogliono gli uomini, ma io gli uomini voglio sempre, perché la differenza la fanno gli uomini. Quindi mi aspetto da parte dei ragazzi, un atteggiamento sicuramente diverso rispetto agli ultimi periodi.